Ci troviamo in via Redi Puglia nel territorio comunale di Montelabate in un tratto stradale che si collega con il comune di Tavuglia. Qui in via Redi Puglia e in via Montegrappa i residenti, in particolare quelli della frazione di Osteria Nuova, lamentano un lavoro fatto a metà. Ci troviamo infatti proprio nel punto stradale in cui cambia il lavoro di asfaltatura, un asfalto perfetto fino al punto in cui ci troviamo, una situazione molto diversa nel tratto che prosegue in salita. Hanno fatto un intervento, il comune di Montelabate ha fatto asfaltare 4-500 metri in un lato via Redi Puglia e 4-500 metri in via Montegrappa all'inizio del paese. Poi tutto il resto, saranno un chilometro, un chilometro e mezzo, è rimasto tale quale con le buche profonde anche 20-30 centimetri. È una situazione di disagio ma anche di pericolo? Sì, perché anche mio suocere per esempio è due anni che non prende più neanche il motorino per paura di cadute, di prendere qualche buca e di cadere, di farsi male. Voi avete anche segnalato la cosa al comune? Sì, abbiamo fatto un reclamo sul sito ufficiale del comune di Montelabate a fine 2019 e ci avevano risposto verso febbraio-marzo che era prevista l'asfaltatura. Noi dopodiché siamo rimasti soddisfatti nel senso che pensavamo che l'asfaltatura prevedeva tutta la strada, invece hanno fatto 4-500 metri da una parte e 4-500 metri di là e da noi niente. A questo punto mi viene pensato che ci sono cittadini di serie A e serie B e che a qualcuno non gli frega niente. Speriamo che la giunta comunale preveda che prima che succeda qualcosa, qualche incidente o qualcuno che si faccia veramente male, prendano dei provvedimenti.